Oggi, mentre lavoravo nei campi, ho sentito una voce sinistra provenire dal pozzo. Mio zio deve essere ancora vivo. Pensavo che fosse più profondo. Quando vedi la terra smossa sulla tomba di mio padre, pensai a qualche animale selvatico. Ma il lamento che senti poco dopo alle mie spalle non proveniva da un animale. Quando il coltello affondò sulla mia pelle, mi senti felice come non mai. D'altronde, non era ancora la mia pelle. Sono anni che non vedo mia madre, ma non posso dire nulla a riguardo. Altrimenti, ha promesso che mi taglierà anche la lingua. Ieri ho confessato alla mia ragazza di avere una doppia personalità. Lei mi ha risposto che lo sapeva già e di avere lo stesso problema. Ho deciso di uccidere alcuni personaggi del mio ultimo libro. Non vorrei che la mia autobiografia risultasse troppo noiosa. Non vorrei che la mia